Basta ingrandire. Pensare troppo ai problemi li rende ancora più grandi di quello che realmente sono. Quando ti trovi ad affrontare una situazione che ti sconvolge, affronta il panico prima di trattare il problema. Perché quando risolvi un problema, un altro prende il suo posto. È la vita e tu non puoi cambiarla. Allora, che cosa devi fare? Cambia prospettiva. Anziché concentrarti sulle tue preoccupazioni, dai spazio a Dio. Perché Lui non ti deluderà. Ti ha mai deluso? No, e non lo farà mai. Guarda cosa dice Gesù nel Vangelo riguardo alle cose che ci preoccupano. Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. Il Padre vostro Celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più.